Siamo 150 anni in questo momento e quindi abbiamo pensato che l'area di tutto il territorio possa essere un momento di riflessione perché dalla memoria, dalla storia vengono le riflessioni e si costruisce il futuro delle nuove generazioni. È un momento particolare per tutte le forze buone di Sant'Agata, le scuole, gli uomini di cultura di Sant'Agata, gli appassionati, quanti vogliono bene a questo paese, per coinvolgerli in una serie di eventi che si svolgeranno nell'arco di otto giorni e che in questo particolare il risultato che vogliamo conseguire è che resti una documentazione, dal punto di vista anche cartaceo, ma anche di manifestazione, non solo per i Sant'Agata, ma per il risultato di eventi che si sono svolti, che coinvolgono. Mi diceva il sindaco, hanno portato, va bene, non so quante migliaia di persone. Segno questo che gli eventi culturati, bene, aggrappono oggi perché non c'è soltanto un turismo culturale, c'è un bisogno, c'è una necessità di scoprire le potenzialità e la realtà dei singoli poesi e soprattutto di evidenziarli e di metterli in detrima. Io voglio citare solo un caso e poi io ho questa breve presentazione. Il comune e il territorio dei Neurodi all'interno del liceo è opportunamente valorizzabile. Allora, uno dei compiti fondamentali, non soltanto della città di Sant'Agata, che è appunto attraverso il casale.